Allora, il mood di questo campionato, perché quale sarà? Siamo pronti a partire? Eh, di auspicio per tutti! Sentiamo, sentiamo il mood di Montblano in questo... Auspicio! Give me all that love that you are, I won't give you my... Perfetto, perfetto, mi sembra che sia proprio... Everybody! Perfetto, è quello che ha detto Sarri alla squadra! Buon capionato! Buon capionato a voi! Buon capionato soprattutto a voi! Ennesimo corner per la Juve, che accetta di difendere anche in tre uomini in aree, non sette come facevamo l'anno scorso, ma per creare di più! Questa è stata la scelta della società, l'importante è che poi lo faccia la succa! No, 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 stavo ribadendo ancora, oramai il movimento, la sponda di Higuain è proprio uno schema fisso proprio! Ma no, 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 no! Corner, poi i commenti! Cosa non nascosta sulla testa di Molucci, l'anticipo di sempre al volo, Alexandro, e poi i Molucci... Goal! Chiellini! Goal! Chiellini! Chiellini in primo gol! Goal di Chiellini! Goal di Chiellini! 1-0 Chiellini in mischia! Goal di Giorgio! Chiellini! Ma non mi divertì! Ma non mi divertì! Ma non mi divertì! Non mi divertì! E qua fanno festa in versione King Kong! Goal di Confusione! Goal di Confusione! Tiro in mezzo il primo che la tocca va dentro! Capito! L'onda, l'onda, l'onda! Stai giocando a Fulano! Goal! 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 Uno schema Champions! Se perché... Ma pure tu fanno! È di Giorgio Chiellini il primo gol del campionato! Parle pure tu! Perfetto! 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 Devo dire che i nostri tifosi della Juve sono rimasti un attimo spiazzati perché c'erano alcuni giocatori della Juventus che si stavano muovendo e quindi si temeva magari in una posizione di offside. Cosa succede? Che c'è una serie di batti e ribatti in questa zona del campo. Alla fine la palla viene deviata da Chiellini in una sorta di mische di gambe. Sottolineerei, Claudio, la posizione per noi di dove era Sepe. Un grande schema. Sepe era praticamente sepe. Vai, vai, vai! Era lì. Ma perché è andato per terra? Praticamente a porta vuota. Ovvio! Banca 15, 14, Alessandro e Gervinio. Alessandro e Caramò, anzi. Caramò non l'ha mai vista. Fisca sto scempio, va, fisca. Decidio quadrato. Quadrato alla destra finita qui. È finita. Tre punti per la Juventus. Si danno il 5, paratici. Poi vediamo che tutti escono soddisfatti. Decide Chiellini. Decide Chiellini. Tanto tre punti in cascina. Sì, sì, Ronaldo ha proprio la faccia di quello che dice, beh, gioco proprio in una squadra spettacolo. Vabbè, Ronaldo sai che se non ha messo il timbro non è mai soddisfatto. Vabbè, è vero. Ha fatto... Vabbè, Ronaldo ha proprio la faccia di quello che dice, beh, gioco proprio la faccia di quello che dice, beh, gioco proprio la faccia di quello che dice, beh, gioco proprio la faccia di quello che dice, beh, gioco proprio la faccia di quello che dice, beh, gioco 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 la faccia di quello che